Io sono qui perché vorrei dare il mio contributo, dare una mano per la raccolta di firme per questa iniziativa che penso sia assolutamente fondamentale. Io sono un consigliere comunale nel comune di Ardia, nella provincia di Roma, ovviamente porteremo questa iniziativa anche nella provincia, è giusto che al di là della grande capitale queste iniziative vengano portate anche altrove, anche perché molto spesso c'è purtroppo una mala o un'informazione assolutamente inesistente. Quindi questo è il nostro impegno, ovviamente sono qui perché ci credo fortemente, credo che ognuno abbia assolutamente il diritto di scegliere se continuare la propria vita oppure interromperle, quindi interrompere le cure mediche in determinate condizioni, ognuno deve assolutamente scegliere, quindi questa iniziativa, il mio impegno lo ripeto, sarà quello di portarlo anche altrove. Grazie mille. Grazie a tutti.